Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa live, spero che abbiate passato una buona Pasqua, Pasqua e Pasquetta, anzi già che c'eravate. Tra l'altro, almeno non so da voi, ma qui in Lombardia è stata una delle pochissime Pasquette in cui non ha piovuto, tutto il giorno tra l'altro, e questo è un evento raro, molto raro. Comunque, partiamo con stamattina, cioè partiamo con Coingecko, visto che in realtà magari questi due giorni ci siamo un po' allontanati dai grafici, almeno io in realtà mi sono allontanato un pochino dai grafici, giusto anche per trarre un po' di pausa ogni tanto, no? E in realtà stamattina il mercato è completamente salito tutto, ma come ti devo chiamare? Il mio nome è Alessandro, mi puoi chiamare come preferisci comunque. Detto ciò, detto ciò Bitcoin è tornato sopra i 41.000 dollari, in realtà stamattina era sopra i 40.000 e poi nel pomeriggio è salito ancora un pochettino, lo vedete anche dal grafico qui degli ultimi 5 giorni, c'è proprio l'ultima piccola parte, che è la parte in cui sale sopra i 41.000. Tra tutti poi, soprattutto in top 10, ha performato molto bene Terra, Luna, perché è tornata sopra i 90 dollari e se poi scendiamo ancora un pochino, in particolare tipo verso la posizione 50-60, 58, eccola qui. C'è questo Stepn o GMT, che è un protocollo su Solana, che magari molti di voi hanno anche già sentito perché è uno di quei protocolli che ha colto il tempismo perfetto per lanciare e ha incastrato molti interessi, nel senso che Stepn è un'applicazione che si può scaricare su smartphone, sia Android che iOS, quindi è disponibile su entrambi gli store. Attualmente è limitato l'accesso, quindi bisogna avere un codice per poter entrare, codice che viene dato ogni giorno su Discord se riuscite ad accaparrarvelo, e nel momento in cui ottenete questo codice, quindi sbloccate l'applicazione, vi si apre davanti per chi magari già è una persona che corre o comunque cammina e utilizza applicazioni come Strava, come Runtastic per tenere traccia dei propri allenamenti, lo stile è quello, solo che quello che succede è che prima per poter partire è necessario comprare delle scarpe, scarpe che sono degli NFT, ovviamente, che costano più o meno sui 10 Sol, quindi con Sol a 100, più o meno con 1000 dollari si riesce a prendere uno di questi NFT, e il senso è guadagnare camminando o guadagnare correndo, poi c'è tutto un meccanismo di gaming ovviamente perché la scarpa più corri più cammini si consuma, bisogna ripararla eccetera eccetera, adesso non voglio scendere nei dettagli, anche perché non ho ancora avuto occasione di provare in realtà personalmente questa applicazione, e quindi poi non posso darvi un feedback vero e proprio su come è l'applicazione, come è l'interfaccia, se effettivamente funziona bene, in quanto tempo con i prezzi attuali si riesce a rientrare dall'investimento, magari andando a correre tre volte alla settimana, due volte alla settimana, perché poi queste sono le domande che uno deve fare nel momento in cui magari lo fa, come dire, lo fa in veste in questi NFT, in queste scarpe, magari però con l'obiettivo non tanto di mettersi a correre, ma correre e camminare per poi rientrare dall'investimento e guadagnare, giustamente, e ad ogni modo questo token sta veramente scalando le classifiche, anche oggi 31%, quindi sta performando veramente bene, se ho occasione di riuscire a provarlo magari vi potrò anche dare un mio feedback proprio su come funziona l'applicazione, se oggettivamente a parte lato NFT e lato guadagno, è un'applicazione che funziona bene perché il, come dire, la parte più importante secondo me di questa applicazione, se vuole durare a lungo, è proprio quella che deve essere un'applicazione che a prescindere dal fatto che uno guadagna funziona molto bene, ok. Ah ecco, step non lo uso, al momento è molto redditizia, il ROI è di circa un mese, ecco quindi più o meno andando a correre barra camminare però quante volte alla settimana e quanto, nel senso che, visto che dipende comunque anche da quello, funziona molto bene l'applicazione, anche questo è importante, appunto quello che stavo appena appena dicendo. 10 minuti tutti i giorni, lo esprimerei in chilometri, effettivamente in chilometri secondo me non è facilissimo esprimerlo perché penso possa anche dipendere da quale scarpe hai preso e tutta una serie di cose così, io sbaglio. Ho sentito parlare di stepn a pasquetta da persone non coinvolte nel mondo cripto, per me questo è un top signal. Eh ma come dicevo all'inizio, secondo me stepn coinvolge e ha intersecato perfetto il timing, perché il timing di uscita adesso che incomincia a fare bel tempo è perfetto, no? Perché magari, non so, esce a gennaio e una persona o è allenata e comunque corre a prescindere dal fatto che c'è brutto tempo, oppure una persona sicuramente non si mette ad andare a correre, no? Ehm, altrimenti invece questo qui è il periodo perfetto perché appunto esce il sole e una persona è doppiamente incentivata a correre. E dall'altro lato appunto raccoglie tutti quelli che già corrono, già utilizzano applicazioni come Strava, Rantastic, eccetera, eccetera, e magari perché no? Mh, si può, può fare questo esperimento con stepn a vedere se l'applicazione gli piace e nel mentre guadagnarci anche. A fine anno dovrebbero raggiungere il noleggio delle scarpe, interessante questa cosa del noleggio scarpe. Comunque è un progetto che a prescindere da, da tutto, nel senso a prescindere dal fatto che voi corriate o meno, è molto interessante e dai, non direi che è top signal solo perché ne hanno parlato anche altri, proprio perché secondo me è, ne parlano anche perché trascende un po' il mondo cripto solito, no? Cioè in realtà è una classica applicazione di corsa e poi hanno collegato le cose, quindi anzi, secondo me benvengono applicazioni del genere. Invece, quindi a parte questo non ci mettiamo adesso ad analizzare tutto stepn e tutto il progetto che, se non vado errato, è comunque uno di quei classici progetti, diciamo dual token, ok? Dove c'è il token di governance e poi c'è il token che si farma. Invece, volevo subito aprirvi questa notizia di Optimism perché secondo me, però questo ripeto è il mio parere personale, potrebbero essere in procinto di annunciare una sorta di token e magari, anche qui non è assolutamente detto che siano obbligati a farlo, potrebbero dedicare una percentuale dell'allocazione, della supply anche ad un eventuale airdrop per, non lo so, magari utenti che hanno usato la blockchain, usato alcune piattaforme, fatto magari delle operazioni di base. Cioè, in realtà, durante questo articolo, che non è lunghissimo, si legge anche in pochi minuti, vanno a fare un riepilogo di quello che è tutto il percorso di Optimism, che vi ricordo essere un layer 2 di Ethereum, ok? Un layer 2 di tipo Optimistic Rollup. E io voglio passare subito alla fine, che è la parte più importante. E è qui, ok? Quindi, cos'è che scrivono qui? Un nuovo capitolo, sono stati degli anni, vabbè, molto intensi, eccetera, eccetera, ma la parte che mi interessa ancora di più è questa. Cioè, stiamo, siamo verso la fine di un capitolo e all'inizio di uno nuovo, uno guidato dalla Community Ownership e Governance. Quindi, Community Ownership e Governance, io ci vedo un token. Poi, non so voi cosa ne pensiate di questo, se anche voi vedete come me un token, oppure, non lo so, magari la governance si farà con Ethereum e anche l'ownership si farà con Ethereum. Personalmente non credo, e in queste parole io ci vedo proprio la sintesi di quello che è un token di questa chain. E, alla fine, potrebbe anche essere che una parte le airdroppino. Cioè, sapete che c'era un po' questo rumor, anche su Arbitrum si rumoreggia un eventuale token e anche lì un eventuale airdrop. Quindi, se eventualmente la pensaste anche voi in questo modo e volete provare, se ancora già non avete fatto alcune azioni, a eventualmente riceverlo, questo airdrop, le azioni che uno può provare a fare sono quelle, innanzitutto, di brigiare dei fondi su Optimism e poi per formare delle operazioni di base, quindi magari utilizzare le applicazioni decentralizzate più importanti per TVL, magari fare uno swap, magari aggiungere liquidità, poi toglierla. Cioè, semplicemente sperimentare, ecco. Quindi, magari lo snapshot lo hanno già fatto e comunque questo non lo possiamo sapere, giustamente, non c'è stato ancora comunicato. Però, tentare non nuoce. Alla fine, se anche non facessero un airdrop o se anche lo snapshot lo avessero già fatto, alla fine vi perdete magari nelle fee che comunque su Optimism non sono elevatissime. E invece, diciamo che il rischio, non so come dire, il rischio fee che vai a perdere e potenziale airdrop che magari vai a ricevere, penso sia abbastanza positivo, ecco. Poi mi interessa anche cosa ne pensate voi, nel senso, io in realtà qui ci vedo semplicemente un token. Poi, vabbè, magari annunceranno anche tante altre cose, magari spiegheranno chissà quali meccanismi. Le fee, non so come si pagheranno, si pagheranno con questo token o rimarranno in Ethereum, cioè anche questo è interessante. E al momento non hanno ancora detto niente a riguardo. Cioè, hanno solo lasciato un po' il dubbio e ovviamente hanno messo un po' di hype, che era quello che volevano ottenere con questo annuncio, secondo me almeno. Invece. Dunque, ciao, ti seguo quasi sempre, ma di Dopex ne hai mai parlato? No, in realtà, cioè, principalmente, unicamente di Dopex, non ho ancora mai fatto un video. Magari lo farò in futuro, anche se un video solo su Dopex è un po' particolare, cioè il tema comunque delle opzioni non è proprio un tema semplicissimo e... Però, non so, vedremo, vedremo. Invece, volevo giustamente, oggi dobbiamo assolutamente analizzare il battibecco con kamikaze.itrum su Twitter e gli altri crypto tweet, sono curiosissimo di sentire la tua. E questo è parecchio interessante, adesso magari lo apro, Twitter, per andare un attimo a prenderlo, giusto anche per spiegare cos'è successo, perché altrimenti magari uno non sa più cos'è successo. Allora, innanzitutto, anzi, partirei un attimo dal tweet di Tetranod. Per chi non conosce Tetranod, si tratta di una delle... È un... come dire, in realtà lui non è doxato, quindi non si sa chi sia, ma è uno dei, diciamo, massimi esperti, DeFi, in realtà è founder di tanti progetti, advisor di tanti progetti, e più che altro è una mega whale, esatto. Comunque, volevo andare a beccare il tweet giusto, se riesco a trovarlo. Che è questo? Dunque, non so se è esattamente questo qui il tweet con il quale è partito tutto, però questo qui è il tweet che ho visto io per primo, e quindi preferisco partire da questo. Dunque, Tetranod pubblica un indirizzo Ethereum con collegato, quindi Etherscan, per far vedere anche lo storico delle transazioni, e poi scrive un influencer che ho seguito di recente ha venduto tutti gli FPIS, che sono il token di governance di FPI, che è il nuovo progetto di Frax Finance, e twitta a proposito di questo, come a dire, lui twitta e spiega il progetto e contemporaneamente vende i token di cui parlano. E poi continua, guardando un po' lungo la sua storia nel wallet, fa così di frequente, cioè lui fa il tweet nel quale spiega un token, e poi contemporaneamente, comunque aspetta magari un giorno, due giorni, vende il medesimo token di cui ha parlato. E poi andando un po' ad analizzare, insomma, qui nei commenti si è capito che la cosa era riferita appunto a questo utente qui, Twitter, che è kamikaze.ethereum, che vi dico la verità, in realtà scriveva dei, cioè secondo me scrive degli ottimi tweet, io lo seguo da un mesetto più o meno, questo kamikaze.it, e devo dire che i tweet di riepilogo nei quali spiega i progetti secondo me sono sempre stati piuttosto interessanti, penso anche di averne usati, penso anche di averne usato dei suoi tweet in qualche video per darvi alcune notizie o comunque dei fatti relativamente ai progetti, eh. E ha concluso con questo mega thread, poi kamikaze, oggi, nel quale tra l'altro secondo me nuovamente, come dire, fa delle analisi parecchio interessanti, cioè lui qui scrive la verità sulle cripto e poi fa una sbrodolata di, come dire, di consigli che secondo lui appunto sono utili in questo mondo, cosa che adesso non... vi invito a vederlo in realtà questo tweet, perché è interessante e contiene secondo me davvero delle caratteristiche, delle analisi interessanti che meritano, insomma, a mio avviso. E poi ovviamente è partita tutta una discussione del tipo... è un po' la marea di cripto Twitter, no? Cioè, tante persone che magari fanno delle analisi pazzesche e che però magari contemporaneamente uno non se lo aspetta, ma dopo quell'analisi, appunto, uno o due giorni dopo vendono lo stesso token, un po' come se usassero le persone che leggono... come dire, è un po' come se usassero le persone che leggono come liquidità di uscita, così viene chiamata l'exit liquidity, no? In italiano. È un altro il tweet da cui è partito tutto ed ha fatto tutte le casistiche con Silo, FPIS, Metis e tanti altri con i vari dump, post-chill del tipo voi siete tra i miei exit liquidity. Tetranod lo ha ripreso davvero assurdo. Lo hanno sgammato male stavolta. E sì, più che altro è che è stato appunto beccato sicuramente. Detto ciò, comunque, a parte... a prescindere dal mio pensiero, nel senso sicuramente... Cioè, kamikaze per dirvi, lo seguo ancora perché davvero faceva delle analisi pazzesche anche secondo me e la cosa che secondo me bisogna prendere un po' come lezione ma non tanto da questo perché appunto lo fanno tante altre persone ma semplicemente che ciò che si legge su Twitter è parecchio influenzato. Cioè, quindi non bisogna prenderlo per forza come verità di Bibbia ma magari prendere le cose che di positivo o di interessante uno trova in un tweet e poi comunque farsi le proprie considerazioni e non pensare per forza che i tweet siano fatti a fin di bene. Cioè, magari l'analisi è fuori di testa, è stupenda però poi sotto appunto c'è questo pensiero di dire ok, io vi spiego tutto come funziona il progetto spero che voi vi interessiate al progetto e poi io me ne esco, ok? Cioè, purtroppo questo, ragazzi, non si può sapere. Cioè, alla fine a questo kamikaze appunto gli è andato piuttosto male perché è stato distrutto pubblicamente anche se... comunque i suoi follower li ha nel senso non credo che ne abbia persi, eh? 30.000 iscritti li ha lo stesso qui su Twitter. Comunque detto ciò, ragazzi, adesso non volevo focalizzarmi poi troppo su questo discorso e credo sia semplicemente interessante e importante anche ricordarsi di questo cioè Twitter comunque è un posto molto bello ma allo stesso tempo molto... fatto molto così fatto molto così specialmente sui tweet in cui vengono spiegati bene i progetti che alla fine sono probabilmente la maggior parte dei tweet di Twitter a parte i meme. Va bene, invece, giusto per cambiare argomento e non rimanere su questo. Un'altra cosa estremamente interessante è questo è Dune Analytics e in particolare è Dune Analytics con... per quanto riguarda le analytics relative alla Tripool su Ethereum con UST. infatti ve l'avevo scritto anche su Telegram stamattina ma se si vede anche qui graficamente da questo grafico qui, il primo a sinistra che la pool è sbilanciata la pool è sbilanciata vuol dire sostanzialmente che ci sono troppe USDC, USDT e DAI rispetto a UST vi ricordo che nella pool deve esserci 50% UST e 50% la Tripool dove la Tripool è costituita da USDC, USDT e DAI e in condizioni del genere dove la pool è sbilanciata abbiamo già visto in passato la strategia della Luna Foundation Guard di questa LFG che praticamente prende Luna brucia Luna genera, emette UST grazie a questo meccanismo di signoraggio vende UST utilizzando questa pool perché? perché in questo modo cerca di ribilanciare la pool riportando quindi sia UST che la Tripool al 50-50 che è come dovrebbe essere e con le stablecoin USDC, USDT e DAI ma in particolare con USDT perché poi converte tutto in USDT con USDT va e compra Bitcoin di solito come riserva poi della Luna Foundation Guard un po' a difesa anche del meccanismo di PEG e del mantenimento di PEG di UST attualmente non è ancora avvenuta tutta questa storia qui che vi ho raccontato ma è molto probabile che avvenga almeno secondo me visto lo storico cioè è già caduto due o tre volte che nel momento in cui la pool era sbilanciata quello che era Luna Foundation Guard è stato proprio quello che vi ho descritto io cioè ha preso la pool e l'ha ribilanciata di solito poi questo si è accompagnato con una buona diciamo un buon auspicio anche per Luna ok? anche se in realtà la cosa non è proprio direttamente collegata a Luna se non per il meccanismo di mint and burn del signoraggio tra Luna e UST per il resto in realtà a livello diretto non c'è nessun collegamento tra l'aumento del prezzo di Luna e questo ribilanciamento della pool con l'acquisto anche di Bitcoin come collaterale che poi forse collaterale non è neanche la parola esatta perché i Bitcoin che vengono presi dalla Luna Foundation Guard non sono collaterali di UST ma sono un meccanismo di emergenza di difesa chiamiamolo difesa del PEG e non di collateralizzazione di UST quindi sono un po' diverse se volete queste due diverse sono magari sfumature leggermente differenti che però secondo me è importante fare a prescindere ok? invece vedevo che c'era interesse per per i Digen Madmercat però si sa ancora poco ragazzi a parte che non voglio spoilerarvi troppo ma semplicemente perché c'ho già un video domani in cui ne parlo un pochino più nel dettaglio comunque si sa ancora molto poco si sa quant'è il prezzo di acquisto si sa a cosa serviranno anche se non hanno specificato ancora tutto quindi si sanno alcune cose si sa una parte della loro utilità futura non tutta ed è il primo minting che non avviene con CRO e questo secondo me è una differenza gigantesca perché CRO potremmo vederla anche con una blue chip se volete cioè è un token che ormai magari uno non ha problemi ad acquistare anche solo per lo scopo di mintare un un NFT invece MAD che è il token che utilizzeranno per questo minting è molto più volatile tant'è che all'uscita della notizia è passato tipo da 8 dollari a 20 quindi ha fatto più che un per 2 e ha fatto un 2 e mezzo praticamente per 2,5 e quindi non è improbabile che MAD mantenga tutto questo hype fino al mint e poi una volta fatto il mint magari non dico che torni ai livelli di prima però è molto possibile anche che torni a scendere e quindi se una persona diciamo ha comprato i MAD solo per il mint è come se in realtà poi il costo opportunità dei MAD barra mint venisse un po' meno cioè non è è differente da pagarlo in CRO non so se sono riuscito a spiegare il mio concetto ma penso di sì comunque secondo me molto dipenderà comunque da che utilità gli danno oltre a quelle che hanno già annunciato che sono le classiche utilità da boost quindi aumentano le percentuali di di APY sui sui sulle loro piattaforme questo è cioè ma io non capisco questa è una domanda relativa a UST cosa c'è di diverso dal dampare UST su altre pool per comprare poi BTC per il treasury se un pool curve è sbilanciato come in questo caso e dampo UST fino a ribilanciarlo non muovo il peg in teoria lo riporti cioè sì muovi il peg ma lo riporti a posto perché quando UST è troppo poco come in questo caso cioè vedi che UST è la linea blu la linea blu dovrebbe essere al livello della linea nera e la linea rossa dovrebbe essere al livello della linea nera quando UST è troppo poco in teoria il prezzo si alza e quindi loro lo vendono per riabbassarlo quindi è questo il mantenimento del peg che viene fatto e si sceglie proprio questa pool perché è la pool più importante su Ethereum quindi UST tre pool è la pool più importante contenente ovviamente UST su Ethereum e questa è la motivazione quindi spero di averti chiarito questo concetto perché quando UST in una pool è inferiore al 50% vuol dire che in realtà il suo prezzo tenderebbe a salire cioè sarebbe tipo 1,0 qualcosa e invece al contrario per le triple che se sono in tanti cioè se la percentuale delle triple è tanto in teoria il loro prezzo tende ad essere inferiore a 1 non è insta arbitraggio questo qui cioè non credo che UST tripool abbia un UST sopra peg solitamente quello che si fa è mettere UST nella pool per non avere slippage negativo guarda più che altro è che Curve ha una formula che non è quella classica degli AMM X per Y uguale K ha quella formula che è fatta appositamente per minimizzare lo slippage e quindi anche se anche se le pool sono sbilanciate riesce a mantenere un peg molto molto vicino a 1 ok quindi si Cornelia MTG è giusto il tuo ragionamento non è vero che il peg ne rimane completamente intoccato ma viene toccato molto molto poco cioè la pool dovrebbe sbilanciarvi di brutto capito dovrebbe sbilanciarsi tipo non so 90% e 10% che appunto il peg lo perde completamente perché per come è fatta la formula funziona molto bene scusate funziona molto bene quella formula fin tanto che le componenti si mantengono in un certo range nel momento in cui si allontanano dal range in cui dovrebbero stare che comunque in questo caso è 1 a 1 essendo delle stable coin allora lì lo slippage diventa molto molto più grande e ovviamente è una formula matematica ottimizzata per se volete l'incrocio con la bisettrice del primo quadrante no ciao Ale è possibile parlarti in privato beh basta che mi scrivi su instagram o via mail ancora meglio le leggo di più ok comunque virus come rendita su stable è tanta roba durerà secondo te quelle py dunque guarda virus finance lo riapro sai che aveva fatto un po' discutere perché usdn aveva perso il peg anzi andiamo a vedere perché adesso a memoria non ricordo quanto è il peg cioè quanto è usdn vedi che ancora non ha ripreso totalmente il peg in realtà è sempre a 0.98 dollari e giusto per farti vedere magari si apre i 14 giorni ancora un po' di più vedi c'era stato proprio questo mega de peg ha addirittura toccato 0.76 dollari una stable coin che dovrebbe essere sempre pari all'1 e c'era anche il problema vediamo se adesso è ancora così beh è ancora così sì cioè c'è il problema che vedi l'utilizzo è quasi al 100% per le stable coin usdc e usdt perché praticamente vedi che se tu depositi usdc e usdt non riesci quasi neanche a prelevarle perché il tasso di utilizzo è troppo alto quindi io starei piuttosto attento in realtà a entrare qui dentro e cioè in questo momento non mi sembra la piattaforma più sicura principalmente per questo che ti ho appena spiegato lasciate perdere Waves siete l'exit liquidi di Alameda Alameda che anche qui vabbè penso che lo conoscano un po' tutti però è uno dei più grandi fondi no comunque legato al mondo FTX invece cambiando un pochino argomento poi torno a guardare anche il chat non so se avete notato ma è tornato a farsi sentire Andre Crogna e in particolare ha scritto due articoli il primo ieri Pasquetta lui ha deciso di scrivere un articolo e il secondo oggi e in entrambi parla un po' di regolamentazione del settore nel primo che è questo qui The Rise quindi l'ascesa e la caduta della cultura crypto lui parla di questa differenza a me ha colpito molto questa questa piccola parte qui cioè dove lui va a creare una differenza tra quella che chiama crypto culture che è legata a concetti di ricchezza e ego e invece il crypto ethos che è legato al concetto di appunto custodia proprietaria di self custody decentralizzazione e così via e poi se ne esce con la frase la cultura crypto quindi crypto culture tutto questo concetto legato alla ricchezza all'ego ha praticamente inghiottito completamente il crypto ethos che invece era la parte più di decentralizzazione custodia proprietaria forse anche la parte più sociale se volete del movimento crypto e secondo me all'interno di tutto questo dice anche delle cose parecchio interessanti per esempio che comunque nel mondo dei fai in certe situazioni si stanno ripercorrendo errori che sono già stati fatti nel mondo della finanza tradizionale e questo a volte è dovuto al fatto che lui poi parla anche da un lato di programmazione visto che lui è un programmatore quello che accade è che magari una persona trova un codice fatto da altri e incomincia a dire voi effettivamente questo codice lo potrei fare meglio questo non serve questo non serve questo lo posso fare meglio in quest'altro modo e pensa di risolvere magari tutta una serie di difficoltà burocratico oppure difficoltà comunque rallentamenti eccetera eccetera I can do better than this culture esatto e il problema è che poi lui cosa dice attenzione perché questo tipo di ragionamento a un certo punto ti fa sbattere la testa contro un muro e incomincia a dire ah forse qui devo mettere ripare perché così non funziona ma poi se cambio questo devo cambiare anche quest'altro e alla fine di tutto questo ragionamento ti trovi a produrre un codice o comunque ti trovi a produrre una piattaforma DeFi che magari è estremamente simile a quella precedente e dici ok adesso ho capito perché effettivamente c'erano tutti questi accorgimenti no e io aggiungo che in realtà magari molte persone non hanno neanche come dire questo in realtà lo dice anche lui quindi non è vero che lo aggiungo io ma magari molte persone non hanno neanche l'esperienza in campo economico così lunga da poter magari come dire pensare a certi tipi di situazioni particolari certi tipi di problemi che possono sopraggiungere e quindi si tende a semplificare molto perché magari quando va tutto bene non ci sono mai problemi ma in realtà tutti questi accorgimenti che nel mondo della finanza tradizionale ci sono attenzione non sto dicendo che siano tutti perfetti sto un po' cercando di farvi il resoconto di quello che dice lui molti accorgimenti che nel mondo della finanza tradizionale ci sono ci sono perché sono stati fatti errori in passato e poi per cercare di evitare quegli errori sono stati creati questi accorgimenti quindi un po' questo ragionamento e poi ci ha buttato quest'altro post oggi nel quale parla di crypto regulation contro regulated crypto che in italiano non saprei neanche tradurre perché li tradurrei nella maniera identica se non regolazione sulle crypto e crypto regolamentate ma non ha senso secondo me tradurlo così comunque quello che lui vuole dire è in parole povere regolamentare l'intero settore delle crypto lui lo vede come una situazione quasi impossibile da riuscire a portare a termine oltre che poco sensato dal suo punto di vista al contrario creare diciamo una regolamentazione sugli exchange una regolamentazione sulle piattaforme DeFi che magari emettono un token questa cosa qui lui la vede come plausibile e anzi auspicabile e poi addirittura dice di insomma che adesso si dedica a fare questo praticamente cioè si dedica ad aiutare i progetti a diventare più complianti almeno quello che io ho capito e ovviamente in tutto ciò si è tirato un po' di critiche su twitter perché non perché in realtà dica cose sbagliate anzi secondo me dice dei pensieri che possono essere condivisi veramente da parecchie persone io ne condivido molti di quelli che lui ha detto però come dire attenzione ma lo stai dicendo tu che hai lasciato un progetto che avevi fatto partire due tre settimane prima così completamente allo sbaraglio e qui poi vabbè non voglio scendere non voglio scendere troppo in dettaglio comunque non voglio scendere in un pensiero critico nei confronti di Andra anche perché io lo rispetto nel senso alla fine come dire lui non doveva niente a nessuno era libero di andarsene ha fatto una sua decisione ha preso una sua decisione l'ha fatta è ovvio che si è giocato un po' la credibilità perché adesso uno gli dice vabbè ma cioè tu te ne sei andato adesso mi parli di regolamentazione di regolamentare tutto magari se fosse stato tutto regolamentato tu non saresti potuto nemmeno andartene senza avere alcun tipo di problemi no e quindi anche qui insomma è un altro è un altro tema delicato ci sono un po' di temi delicati no ultimamente perché non essendo in bull market o comunque non essendo in una fase super euforica sopraggiungono tutti questi problemi qui il mondo DeFi comunque non so se avete visto anche la piattaforma Bin che era una sempre una stable coin è stata hackerata per 80 milioni di dollari alcuni dicono addirittura 160 milioni di dollari ha perso il peg è crollata a zero cioè purtroppo il mondo DeFi è ancora molto molto come dire pericoloso non so tra l'altro se avevate visto questi post qui voi perché li ha pubblicati veramente tra ieri e oggi quindi ci può anche stare che una pasquetta non l'abbia visto e poi stamattina nemmeno adesso non so se per esempio tornerà ad essere più attivo anche su Twitter per esempio riattivando il suo account oppure se invece lascerà tutto così non vi saprei dire invece passiamo alla notizia un pochino più veloce anche più semplice senza troppe paranoie perché altrimenti oggi stavamo vedendo soltanto questioni intriganti che sono interessanti però mettono come dire anche delle linee morali uno deve discutere deve interrogarsi sul suo parere capire da che parte stare che poi da che parte stare è anche un ragionamento che ha senso fino a un certo punto però capire farsi un'idea cioè adesso invece ne vediamo una molto più tranquilla cioè questa qui che in pratica da settimana prossima mi sono segnato la data qui in fondo dal 27 di aprile quindi esattamente otto giorni da oggi partirà il trading su questo ETF con sottostante bitcoin in Australia si chiama Cosmos Asset Management bitcoin ETF che in realtà tra l'altro leggevo che non ha proprio come sottostante veramente bitcoin ma ha come sottostante un altro ETF che è questo qui il Purpose Bitcoin ETF che è listato in Canada quindi praticamente è un fondo di un fondo che ha come sottostante bitcoin il motivo di questa scelta in realtà non lo so però la cosa interessante è che avevo letto un po' su twitter un po' facendo altre ricerche che si stimano circa un miliardo di dollari in volumi nei primi giorni quindi staremo a vedere cosa succede effettivamente quando lo lanciano un tom fork insomma si poi lo potrai mettere anche in staking sulla tua piattaforma di broker sul tuo broker e ti da dei bitcoin invece stavo leggendo nei commenti prima prima ancora cosa ne pensi di Crotama purtroppo ragazzi Crotama non so neanche cosa sia è un misto tra Kusama e Kronos Crotama va bene ragazzi altrimenti volevo farvi vedere dunque dunque a quanto lo quoti il the peg di UST entro fine 2022 chi la vince la beta da un milione questa è veramente una super domanda perché ho visto che ho visto che in questo periodo comunque anche Luna e UST su twitter stanno attraversando un periodo un po' di difficile nel senso che ci sono parecchie persone che attaccano il meccanismo vedo molto anche UST ponzi cose del genere e non so cioè the peg UST di quanto cioè tipo che lo perde veramente in maniera importante o che diventa tipo 0,99 0,98 cioè cosa intendi con the peg un the peg clamoroso è il ponzi tra i ponzi un dato di fatto onestamente ma guarda su questa affermazione che è un ponzi cioè probabilmente se dovessimo se dovessimo stare oggettivamente attaccati alla parola ponzi e a quello che è un ponzi moltissime cose nella DeFi hanno questo tipo di attributi no? e cioè è difficile poter dare una considerazione del genere secondo me bisognerà valutare molto quanta percentuale di UST uscirà da Anchor Protocol perché il rischio più grande è che la maggior parte degli UST sta sempre su Anchor Protocol e quindi essendo tutto su come dire essendo tutto sull'unico protocollo c'è sempre un rischio maggiore perché non è molto distribuito e quindi nel momento in cui quel protocollo dovesse avere dei problemi o quel protocollo dovesse abbassare le PY cosa che farà dovesse dovesse una fuga di massa di UST allora lì effettivamente c'è un problema e non è detto che UST riesca a reggere ti dico la verità la vedo messa bene la vedo messa bene in realtà se dovessi essere onesto però il rischio c'è sempre questo è ponzosissimo la Lehman Brother della DeFi ma sì in realtà ti ripeto tutte le stablecoin algoritmiche quindi che non hanno collaterale a loro a fare da garanzia hanno questo rischio qui cioè non ce ne sono di storia e il fatto che ancora protocollo occupi comunque adesso una dominance piuttosto importante sulla supply di UST ebbè ne fa un pochino come dire ne fa da pericolo in più staremo a vedere quel 19,5 di anchor non giustifica i rischi sì ma guarda ma è giusto che tu dica anche le tue opinioni perché alla fine ognuno può dire per me vale la pena correre il rischio per mettere i miei UST su anchor o per fare altre strategie come magari la delta neutral e sapere che posso comunque andare incontro ad un eventuale depeg oppure dire appunto non mi interessa preferisco detenere USDC o altre stablecoin stare più tranquillo da quel punto di vista sicuramente io penso che a livello di rischio non c'è paragone c'è USDC in questo momento comunque anche USDT in realtà hanno un lato di sicurezza maggiore per quanto riguarda la tenuta del peg c'è c'è da dire che adesso UST ha veramente una market cap importante quindi un suo crollo non sarebbe proprio liscissimo sul mercato avrebbe piuttosto impatto tra l'altro è quotato anche su molti exchange quindi avrebbe proprio un impatto abbastanza forte ciò non toglie che sia impossibile comunque volevo farvi vedere quest'altra piattaforma nel mentre anzi no è questa qui che è Yeti Finance non so se l'avevate già vista è una piattaforma su Avalanche e quello che permette di fare se vi ricordate un po' alla fine è abbastanza simile ad Abracadabra cioè permette di sfruttare degli yield bearing asset quindi ad esempio AVAX in staking ed altri e permette sostanzialmente di utilizzarli come collaterale per mintare questa stable coin che loro hanno chiamato YUSD e poi con questa stable coin uno ci può fare ciò che vuole la piattaforma non l'ho ancora testata è interessante secondo me fino a un certo punto cioè non introduce chissà quali novità perché a livello di funzioni è veramente analoga a 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 piattaforma completamente funzionante meme che il peg lo ha retto ha avuto un po' di problemi subito dopo le notizie se ci pensate ma poi il peg di meme è sempre stato abbastanza solido e qui la ripropongono ma su avalanche vi faccio vedere anche dove è in calculator un po' di i collaterali che accettano quindi ovviamente AVAX WSDC Ethereum e poi anche degli LP c'è la J davanti che sta per Joe quindi sono quelli su Trader Joe accettano anche l'LP di Curve insomma ne accettano parecchi e interessante se volete che ovviamente siccome vogliono boostare tra virgolette vogliono boostare la liquidità su Curve perché hanno creato una pool su Curve 3Curve e YUSD perché un po' come aveva fatto Abracadabra il problema iniziale di queste piattaforme che devono risolvere è quello di dire ok noi abbiamo creato tutta la piattaforma permettiamo di collateralizzare di prendere un prestito in YUSD ma adesso la cosa importante è che la nostra stablecoin effettivamente mantenga il peg ok perché va bene che è una stablecoin sovracollateralizzata quindi è più semplice ed è meno rischiosa rispetto ad un'algoritmica ma comunque soprattutto se i volumi cominciano ad essere importante deve esserci anche una buona liquidità per fare in modo che le persone possano comprarla e venderla in maniera veloce e per fare questo quindi per incentivare la liquidità su Curve in questo momento lo vedete qui in stake Curve LP token se depositate appunto la vostra stablecoin su Curve guadagnate un 72-70% di APR pagato in Yeti Yeti che è il token di governance dell'intera piattaforma quindi anche qui modello dual token YUSD che è la stablecoin e Yeti che è il token di governance un po' come se ci pensate meme e spell Yeti che scusate Yeti che poi può essere messo in staking in realtà più che uno staking è un locking è un vesting escrow in questo momento non ha nessun vantaggio quindi in questo momento praticamente non ha senso metterlo in vesting escrow ma fra tre settimane lo abiliteranno almeno all'incirca tre settimane lo potete vedere anche da qui e i vantaggi che uno potrà avere dal possedere vesting escrow Yeti a parte ovviamente la governance è quella che probabilmente andrà ad aumentarsi anche le reward nelle varie farm che è ormai una di quelle caratteristiche che abbiamo visto in giro anche su platypus anche su curve cioè modello anche qui non hanno inventato niente però è interessante tra l'altro tra gli investitori di questo progetto c'è Trader Joe e anche la Ava Foundation l'Ava Labs Foundation infatti se avete visto il profilo Twitter ufficiale della Ava Labs Foundation come dire l'hanno anche diciamo sponsorizzato perché comunque è sponsorizzato cioè ci avranno anche investito quindi anche nei loro interessi che poi questa piattaforma abbia successo sul token Yeti poi se vi interessa vi rimando alla tokenomics perché anzi giusto per darvi un accenno molta cioè quasi il 50% anzi il 50% se guardate comunque è destinato a team e investitori e foundation che comunque è una percentuale piuttosto alta cioè non è poco come percentuale destinata a non il pubblico praticamente no il pubblico è il restante 50% quel community incentives quindi bisogna anche andarsi a vedere poi eventuali periodi di lock che il team ha se non sbaglio sono tre mesi e poi hanno un vesting lineare però questo ripeto è scritto tutto qui dentro in what is Yeti is distribution e sicuramente se uno ha intenzione di investire in Yeti queste cose vanno tenute d'occhio perché altrimenti poi vi cioè potete ricevere un dump clamoroso dunque il problema con queste cose è che se hai poca liquidità e liquidation ratio non è abbastanza alta perdi il peg e la gente rimane con un sacco di bad debt e e si hai ragione è così oggettivamente infatti sono piattaforme interessanti ma comunque come dire a parte che ripeto non introduce nulla di nuovo quindi non è che questa piattaforma qui adesso è clamorosa perché prende veramente ispirazione da abracadabra ottimo oltre Yeti come lo vedi Vector che si lancia su Joe oltre che P2P pare che abbia vinto le P2P Wars da TVL di DeFayama dunque beh Vector insieme anche a Echidna adesso mi fido nel senso se Vector ha più TVL rispetto a Echidna ci può stare alla fine ci poteva anche stare che tra i due litiganti alla fine semplicemente uno dei due avrebbe avuto la meglio e si lancia anche su Joe in che modo ti devo dire che non ho ancora visto la notizia forse me la devo andare a riprendere comunque Vector è interessantissimo modello convex su Platypus che funzionava benissimo poi Platypus è una piattaforma con parecchia liquidità in questo momento quindi comunque funziona bene C'hai guardato le parachains di Polkadot se si quali ti sembrano i progetti migliori per ora ad esempio Astar nell'ultimo periodo è cresciuta molto in TVL si Astar probabilmente è una di quelle che è cresciuta di più però bisogna stare un pochino più attenti a come contano il TVL perché se non sbaglio se non sbaglio includono anche tipo gli Astar in stake da qualche parte e mi ricordo che questo comunque gonfiava un po' al TVL se no ci sono anche le tipo c'è Moonbeam che è questa piattaforma Ethereum Virtual Machine compatibile più che piattaforma è proprio una blockchain c'è Akala anche se in questo momento ancora attivo veramente poco e queste qui sono quelle tra virgolette più famose queste tre che ti ho appena citato quindi sono quelle dove c'è anche un pochino più di hype e se vuoi di 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 aspettative anche ok però in realtà di come dire di 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 parachain ce ne sono tantissime tantissime altre magari faremo degli aggiornamenti su Polkadot perché da un po' che non ne parlo in dei video ma più avanti è di mio interesse comunque farli ecco invece per quanto riguarda su Trader Joe stesso modo che con P2P staking più vesting lineare beh comunque si lo vedo bene allora se sta facendo una stessa cosa con Joe comunque mi andrò a leggere la notizia per capire poi meglio quello che stanno facendo perché adesso Joe cioè Trader Joe non aveva un modello stile curve a meno che non l'hanno implementato di recente con il quale ti potevi aumentare le reward se praticamente mettevi in staking il token o sbaglio ah invece Crescent Network ha fatto un airdrop immenso sì Crescent per quanto riguarda Mondo Cosmos ha lanciato pochi giorni fa e e ha fatto un airdrop che è stato dato chiaramente a tutti gli staker anche di Atom Snapshot che è stato fatto se non sbaglio i primi di gennaio del 2022 e in più era un airdrop che poteva essere tra virgolette potenziato se venivano fatte una serie di operazioni tra l'altro credo sia anche uno degli ultimi airdrop massicci dell'ecosistema di Cosmos a mio avviso o comunque non dico che non ne arriveranno mai più però uno degli ultimi noti effettivamente massicci ecco invece vi ringrazio per Trader Joe hanno cambiato la tokenomics e hanno aggiunto le gauge in stile curve allora sì perfetto no allora super senso e anzi ottimo vi ringrazio se che mi avete aggiornato su questo mi andrò a leggere sicuramente un po' di news sul buon Trader Joe e quindi anche su Vector bell'airdrop appena riscattato sì il claim tra l'altro è piuttosto semplice per cui ci si può collegare con Kepler in maniera tranquilla vediamo conosci Minereum Minereum su Polygon in realtà no in realtà no in realtà no mi dispiace onestamente sulle gauge non sono sicurissima magari mi sbaglio di grosso vabbè ma andrò a controllare dai non non fidiamoci ma come dire come adesso mi viene in mente don't trust verify trovi tutto sul twitter di Vector perfetto perfetto ecco invece questa le secondo te è la pool MyUSDC meglio su SpookySwap al 16% oppure su QuickSwap al 12% quanto rischio ci vedi in entrambe allora è una pool che in generale mi piace quella con MyUSDC e dipende cioè tra QuickSwap e SpookySwap dipende anche quale blockchain preferisci perché comunque QuickSwap è su Polygon e SpookySwap è su Phantom quindi sono diverse poi considera che non basarti troppo cioè non scegliere unicamente in base alla percentuale perché comunque cambiano in futuro e poi bene o male tendono ad essere anche abbastanza simili diciamo asintoticamente simili e quanto rischio ci vedi in entrambe il rischio più grande secondo me è il rischio di Mai che è una stablecoin sovracollateralizzata e c'è sempre il rischio che perda il PEG è più difficile che perda il PEG rispetto a una stablecoin algoritmica perché ti ripeto è sovracollateralizzata quindi in teoria c'è più collaterale di quanta market cap però sai che su queste piattaforme comunque su queste stablecoin un minimo di rischio in più ce l'hai lo stesso quindi secondo me puoi guardarlo un po' indifferente cioè puoi guardarlo un po' entrambe e scegliere anche in base a quella che è la blockchain che preferisci e poi sì esatto anzi ringrazio YFarmer controlla se quella di Quickswap è quella Powered by Kidao Kidao anzi che si dica perché in quel caso è 0.5% di deposit fee deposit fee invece volevo farvi vedere le ultime due news proprio piuttosto rapide la prima era questa qui anzi no scusa un attimo in base a quale fattore dovrei scegliere quindi e beh dunque in primo in primo luogo alla blockchain sulla quale vuoi stare perché SpookySwap ti dicevo è su Phantom e l'altra è su Polygon e dopo di che ti dicevo non basarti troppo sull'APY perché alla fine tendono un po' a convergere quindi se tu sei già su Phantom e dovresti bridgeare su Polygon probabilmente ti conviene restare su Phantom se invece sei già su Polygon probabilmente ti conviene restare su Polygon se non sei già da nessuna parte dovresti andare su una delle due puoi guardare un po' lo storico magari dell'APY se riesci a trovarlo tipo su Coindex anche se in realtà al momento Coindex credo abbia riservato per la versione a pagamento lo storico degli APY quindi non riesci più a vederlo però io ti ripeto bene o male tendono ad essere abbastanza simili e poi si esatto come dice YFARMER monitora anche Tarot su Phantom sempre perché in lending mai a volte trovi anche meglio del 16 del 12% concordo è diverso cioè Tarot funziona in maniera diversa rispetto a funziona in maniera diversa rispetto alle pool di liquidità quindi come dire prima di prima di buttarti su una piattaforma cerca sempre di capire come funziona e come riesci a pagarti no invece poi vi stavo dicendo questa notizia qua di Kugira che secondo me è parecchio interessante hanno fatto una nuova partnership con Avaland che ovviamente è un protocollo di lending visto che Kugira è interessata ai protocolli di lending e la cosa bella la cosa bella è vabbè qui in realtà dicono che Avaland è ancora in fase di test che stanno cercando degli early alpha user ma ancora meglio c'è la cosa interessante davvero è che tutte queste piattaforme di lending che si aggiungono a Kugira ossia tutte queste piattaforme che utilizzano Kugira come piattaforma dove poter fare le bid per le liquidazioni portano beneficio agli staker del token di Kugira che è SQG proprio perché SQG guadagna dalle fee derivanti sulle liquidazioni e quindi ovviamente è super interessante cioè è super interessante proprio per il motivo che vi dicevo no? più collaborazioni Kugira riesce a fare più fee riesce a generare per gli holder del token Kugira è un modello abbastanza è un modello che mi piace perché è come dire è molto sostenibile e non basa le sue non basa la sua rendita puramente sull'immissione di nuovi token quindi inflazionando e diluendo gli altri holder questo secondo me è parecchio interessante e poi ultima news ragazzi giuro è l'ultima non è non è tanto una news però come dire è un po' un presentimento andando andando a leggere questo tweet di Sanni Sanni è il CEO di Osmosis e lui scrive qual è il miglior progetto di landing che ha la migliore interfaccia utente user experience e qui quindi ovviamente molti hanno incominciato ad ipotizzare che probabilmente in futuro e magari ormai neanche così lontano arriverà una sorta di piattaforma di landing anche su Osmosis che adesso ospita solo un DEX ma vi ricordo che Osmosis è una chain a tutti gli effetti che in questo momento ospita solo un DEX e magari in futuro potrebbe arrivare anche una piattaforma di landing sempre su Osmosis e quindi sempre con Osmo al centro dell'attenzione quindi credo sia molto positivo se dovesse rivelarsi vero e ripeto non sono informazioni ufficiali quelle che creeranno una piattaforma di landing però secondo me è molto probabile è un po' come il token di Optimism cioè hanno lanciato un po' hanno lanciato un po' come dire l'hype uno con una domanda l'altro con delle affermazioni un po' che ti fanno capire che stanno parlando di quello ma senza dirtelo praticamente anche qui non so cosa ne pensate però secondo me arriverà e potrebbe arrivare anche nei prossimi mesi senza andare a pensare a quest'inverno ad esempio Tarot ha appena messo dei usdc dei usdc levereggiabile con utilization su dei al 99% in tipo 10 minuti quindi ora non è più levereggiabile finché qualcuno non è disposto a metterne altri come l'ender quella è un'altra interessante anyway per stable farming ecco questa qui non l'avevo ancora vista tra l'altro Ale Blocktopia non lo segui dunque Blocktopia non è che non lo seguo conosco il progetto però no non lo seguo super da vicino se devo dirti la verità invece qualche airdrop in vista per il mondo di Cosmos è un po' quello che dicevo prima cioè secondo me airdrop veramente importanti in questo momento non mi sembra che ce ne siano però sai cioè alla fine lì per prenderti degli airdrop devi avere un po' di Atomistake se vuoi anche altri token in stake tipo Juno ha dato un po' di airdrop e Osmo ha dato qualche airdrop ma comunque di meno cioè Atom è quello centrale un po' su cui ruotano tutti di solito riesci a prendere quasi tutti gli airdrop con Atom tranne Raw avete visto che Raw alla fine è stato hanno deciso di escludere gli staker di Atom dall'airdrop decisione che io ripeto cioè secondo me comunque poteva avere senso perché alla fine Raw è un token del DEX su JunoSwap quindi cioè secondo me ci sta che abbiano rimosso gli staker di Atom ecco ho visto che c'era anche qui qualcuno che si era un po' arrabbiato ma cioè alla fine mi sembravano più che altro arrabbiati perché volevano ricevere l'airdrop per poi venderlo non tanto per detenerlo e farci chissà che cosa dacci due dritte su rendita su stable beh qui dipende ragazzi cioè secondo me rendita su stable va fatta sempre in un modo tipo una buona parte che non è che si continua a spostare quindi può essere differenziato anche tra cefai e defai e poi invece se vi volete divertire un pochino e se avete anche il tempo perché comunque ci vuole anche un po' di tempo quindi non per forza deve essere adatto a tutti una parte più piccola che magari l'ha continuata a fare ruotare un po' alla ricerca dell'APY più alto magari ad un rischio anche un pochino più alto quindi sperimentate anche protocolli un pochino più nuovi come potrebbe essere Yeti Finance per esempio che sulle stable adesso dava il 70% pagato in Yeti per dirti per cercare di fare un esempio un pochino più concreto questo non so è una cosa che secondo me è intelligente però ripeto magari ognuno poi ha la sua strategia diversa buon ragazzi direi che ci siamo sparati quasi un'ora io tra l'altro come al solito vi ringrazio di essere stati fino a qui noi ci vediamo domani e domani il video è interessante perché parlo proprio un po' del progetto Madmercat e di cosa era successo settimana scorsa perché sicuramente chi di voi era all'interno del progetto ha visto cosa è successo cioè è calato un po' tutto l'ecosistema per poi riprendersi con una notizia che è uscita poco prima dell'inizio del weekend e infine anche di Argo Finance che ha lanciato come dire ha lanciato un articolo nel quale spiega innanzitutto il launchpad perché faranno un launchpad in collaborazione con VVS Finance e poi anche un po' come funziona e insomma sarà interessante ragazzi vi saluto e noi ci vediamo domani come al solito ciao ragazzi mitici ciao a tutti ciao a tutti